Quasi due mesi dopo la sconfitta di Monza, la Sanitana si accinge a tornare in campo per una gara ufficiale. Domani riparte la Serie A, unico tra i principali campionati europei ad aver atteso il nuovo anno per tornare in campo, visto e considerato che in Germania in questo periodo si osserva una forzata pausa per motivi climatici. La Nazionale non aree mondiali, ma la Serie A ha preferito aspettare la Befano quasi per riprendere. Gennaio sarà un mese intenso, come testimoniano le due giornate di campionato in quattro giorni previste dal calendario. Domani, in una requida tutta esaurito, la squadra di Nicola affronterà il Milan che ha tardato in classifica e da diverse assenze, ma che è pur sempre la formazione detentrice del tricolore. Contro i rossonieri Lex Pioli nel febbraio 2022 cominciava l'avventura di Davide Nicola sulla panca granata. Da domani, sempre contro il Milan, per l'allenatore piemontese la sua squadra ricomincia un altro campionato che sarà fatto di 23 partite in cui si dovrà sempre provare ad ottenere il massimo. La fase di stop del campionato non è stata indolore sul piano degli infortuni. Sepe, Mazzocchi e Maggiore sono ai box e domani mancherà l'appello anche lo squalificato Candreva. Trattative intense sul mercato per rimpolpare la Rosa, colmare le lacune ed aumentare il ventaglio di soluzioni per Nicola che avrà Nicolussi Caviglia, centrocampista di grande prospettiva e di proprietà della Juventus, ed aspetta un esterno destro. In attacco si attende il solito giro di punte, Lazio e Cremonese soprattutto, su Bonazzoli. Durice e Sulluscio, prima della gara e domani, alle ore 12 in tribuna stampa, si terrà una cerimonia di commemorazione per Giovanni Vitale, scomparso prima di Natale.